Emergenza abitativa, la necessità di realizzare al più presto altre abitazioni, la proposta di Giovani in Movimento, ne parliamo con Marco Di Michele Marisi. La cosiddetta emergenza abitativa non può trovare soluzione nelle poche case popolari esistenti a vasto, sulle cui assegnazioni ci sarebbe da discutere, ma deve passare per un progetto complessivo che preveda la realizzazione di altre alloggi, l'affitto di mobili privati inutilizzati e l'erogazione di contributi che siano d'aiuto per pagare i canoni di locazione. Il problema della mancanza di una casa per molte famiglie vastesi non è mai stato affrontato. Tantissimi sono i nuclei familiari o i singoli che da anni attendono l'aggiudicazione di un alloggio popolare o che, soprattutto ultimamente, sono stati colpiti da sfratti. Di fronte ad una emergenza sociale come questa, un'amministrazione comunale non può rimanere con le mani in mano. Occorre mettere in campo progetti seri per affrontare una questione che in tantissime città d'Italia sta diventando bollente.